Ma che bravo! Bombe raga, minchia questa comunque è la parete dove ho fatto più kill mi sa eh Allora ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Barry Ragazzi mia e quello di oggi è un game veramente assurdo, abbiamo fatto una strage Io God the Tat è in trio, non era trio squad, era trio normale, abbiamo fatto 105 kill di team Ovviamente ragazzi, inutile dire che la lobby non era una lobby di fenomeni Sono andato anche a controllare per curiosità personale, abbiamo beccato praticamente per tutta la giornata lobby da 1 1.5, 0.95, 1.40 l'abbiamo beccata una E ci sono capitati un paio di lobby 0.75, questa era una di quelle Quindi ovviamente l'abbiamo sfruttata fino al massimo Che comunque raga vi assicuro non è facile fare tante kill così Infatti è la prima volta che ci capita onestamente in un anno e mezzo di gioco e abbiamo giocato veramente tanto God the Tat è in gameplay ragazzi, lasciatevi un bel commentino, un bel mi piace mi raccomando Io vi aspetto in live come sempre, tutti i giorni, pomeriggio e la sera E poi come al solito ragazzi, Instagram, insomma tutti i social, tutto quello che trovate in descrizione Mi raccomando fateci un salto, almeno è tutto, buona visione Poi stiamo facendo la conquista ragazzi, sarà un enorme dispiacere dovergli rovinare la festa Sopra l'altro Perché non lo confermano? Mamma che bastardi oh Pur di prendere due bombe sto rotto in culo Treno, 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 treno Facciamo un assalto? Doviamo fare l'assalto al treno? Aspetta gli faccio un assalto così, fermo, fermo, fermo Stanno sperando a me Volevo Non è terra Porti tutti? E' dentro qua, qua in casa, qua in casa vieni Ti mira dalla finestra? Oddio Che cazzo è successo? Ti ho visto compenetrare il muro Ma che bravo, ma che bravo Veramente bravo Oh la macchina ha preso Io come l'ho traccato ragazzi, come l'ho traccato Ma che bravo che sono Ma che bravo No vabbè Se mi viene pure Cosa ho appena visto Ma che bravo Traccato? Ma che bravo che sei anche te Oh merda E' dentro l'hangar E' dentro l'hangar Sì Raga questa qua è una lobby di persone modificate Fidatevi di me raga Raga questa è una lobby di modificati incredibili eh Questi qua avevano un nemico di fianco Mi hanno guardato Ho detto vabbè dai noi andiamo avanti a lutare Questa ragazzi è una lm mi sa E' potente anche ve lo dico E' una ldm raga E' una ldm Fidatevi di me No no raga E' questa è bella grossa Poi ne posso sparare tante E' una ldm di quelle interessantissime Raga? Ah neri cosa mi fai Oddi minchia è mio Minchia però figa vi giuro Che a morire così manco a dirlo eh Raga a morire così però manco a dirlo Questo ha trovato l'rpg nella cazzo di cassa Non è anche ne aveva già un altro Eh sì è una ldm raga ma Ldm purtroppo bisogna adattarsi al meta delle ldm Raga vi prego vi isat Prego usate quei cazzo di soldi Non ci voglio credere Stavo guardando il Cosa? C'è ho spinto la persona Ma vi rendete conto? Qua ce ne sono un po' eh Tre Una terra Una terra Manca l'ultimo L'ultimo è qua in fondo Fatto? Sì What? Oh il gallo Eeeh Atte Oh ci muoio Raga mi ha riconosciuto uno Vi giuro che era inglese questo qua Sono iniettato internazionale Raga in questi qua della casa Tutto tranne che scassi Cioè gente normale questi raga Gannati e buona Cioè pochi cazzi Voglio dire che Oh ero mutato Ma raga quanti cazzo sono qua sopra Devo venire da voi raga Eh c'è uno sopra anche C'è uno sopra god No è sceso da me È da me da me da me da me Sto correndo verro Qua da me Ha fatto la golla con lui Eh? Sono due No ma sono due Dimmi se ci sono delle armi Un è terra Un è terra Dimmi se ci sono delle armi Vai dentro al primo piano di polis Ok bravo Le fatti entrambi? Forse sì Sì Ho sentito tossire Infatti c'è gente di là Sto di vita a testa godi eh Punta ora Punta ora Sei posto A terra A terra due Manca l'ultimo godi Non ti tromba No ma pinzzi È sicuramente lì Mi devi tolgo il ping Devi tolgo il ping Rivedo 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 Alla madonna raga Ma come cazzo faceva sapere che Lasciate andare Come faceva sapere che ero lì sopra preciso In pre fire Vai 3v1 siamo 3v1 3v2 Qua da me è l'ultimo Qua da me è l'ultimo Qua da me è l'ultimo qua Dove? Ultimissimo qua davanti a me C'è l'altro C'è l'altro 30, 60, 90 90 Più Qui 105 bombe raga 105 bombe raga Minchia questa comunque è la parete dove ho fatto più kill Mi sa